Siamo qui con il presidente Minicacci, il presidente dell'Ancos Roma che oggi ha vinto per 3-1 contro il Campus Eur Grande prestazione, contro una squadra di alta classifica, siete riusciti a fare la vostra partita dal primo all'ultimo minuto Avete trovato dei gol e la seconda vittoria stagionale Sì, per puro caso è proprio la seconda che mi trovo a fare allenatore da presidente in panchina Sono proprio gli unici sei punti che quest'anno hanno mosso un po' la classifica I ragazzi hanno giocato benissimo, oggi è una prestazione importante Finalmente siamo riusciti ad essere totalmente a piano organico Abbiamo avuto qualche problema tra il code o qualche allenamento sbagliato Questo è ancora per noi l'inizio della stagione Speriamo di muovere la classifica e tornare dove pensiamo di meritare Un commento per il gesto di Sesta, una rovesciata che non si vede tutti i giorni Eh sì, Pippo ci abitua ogni lunedì o mercoledì a qualcosa di strano L'ultima volta da centrocampo ci aveva provato, era andata bene Oggi quella palla la vedeva solo lui E Pippo ce l'ha nel repertorio e noi gli vogliamo bene per quello Grazie mille